è tutto pronto per l'edizione 2022 di alpà la 10 giorni di eventi che si tiene tutte le stati a varallo sesia dall'8 al 17 luglio saranno molti gli eventi musicali e non solo che animeranno il centro cittadino ci spiega tutto eraldo botta presidente del comitato alpà ciao sono eraldo botta il presidente del comitato per l'alpà vi aspetto dall'8 al 17 luglio in valsesia concerti gratuiti senza prenotazione prezioso fargetta fabrizio moro paolo belli alle france con la loro comicità rocco hunt e poi torniamo con i dj zodi 105 una serata dedicata a un history maneggio e chiudiamo con francesco gabbani l'alpà è la festa dell'artigianato e a varallo troverete a palazzo d'adda quanto di meglio la nostra terra può offrire dal puncetto la lavorazione del legno la lavorazione delle pietre del ferro troverete quanto hanno inciso nella nostra terra questi artigiani e proprio attraverso l'alpà vogliamo valorizzare questi antichi mestieri troverete negli spazi di palazzo d'adda alcune iniziative che toccheranno il vostro cuore per quanto riguarda invece i parcheggi venite comodamente troverete intorno a varallo molti parcheggi gestiti dalle varie associazioni che vi aiuteranno ad arrivare in centro cittadino in poco tempo per informazioni alpa.net oppure tutti i social a 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